Ciao a tutti ed eccoci qua in Animal Crossing, ancora nei sogni, ho preso il filone di andare nei sogni ho trovato un codice da Tumblr, sono anche lì, di un certo Fernand Woodtown che ho visto le foto e mi piaceva la città e voglio andare a Visitalia inserisco un codice, certo che ho già un codice, 5200, speriamo piaccia anche a voi questa città 55, 39, 19, 28 e andiamo Fernand Wood, sì, certo vai, vai, sono ricca, 146 insomma, c'è chi ne ha molte di più ma mi sento ricca, 146.000 potrei iniziare a saldare anche il debito con Imnook, visto che ho tutti questi soldi sono indecisa se comprarmi un arredamento da griffa però sono un po' questi dubbi esistenziali di prima mattina andiamo, andiamo andiamo a vedere, andiamo a vedere ottimo vediamo un po' questa città città tormentata di Fernand Wood quando vuoi, sì, va bene, sappiamo che dobbiamo tornare qui, ormai siamo a bezzi questa routine cosa c'è qui? che regalo ce l'ha fatto? pacchetto, pacchetto, vediamo che pacchettini ci sono aiuto, 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 ecco apri apri e apri, vediamo un po' come ci fa a vestire apri, apri, andiamo, indossiamo oh, poi indossiamo e voilà, oh ci picchia, che bella capigliatura e andiamo a vedere un po' questa città qui ci sono i funghi ah, quanti alberi attorno alla piazza altri pacchetti, vediamo un po' chi ci ha regalato ci ha regalato per il sogno perché poi noi, come ben sapete, non possiamo portarceli a casa oh, no, mi piace proprio questo e vediamo un po', apri no, no, più bellino questo vestito qui, vediamo l'ombrello vediamo l'ombrello la foglia aiutami qui, ma mi sta dando noia il video togli attrezzo e via, andiamo possiamo andare in giro con questa bella capigliatura vedo che qua anche lui c'è o lei, non lo so, penso sia una lei aspetta un attimo siamo davanti alla casa del sindaco, no, scusate sennò del sindaco siamo davanti al comune vediamo un po' cosa c'è qui di regalo scatola di fagioli prendi abbiamo la scatola di fagioli in mano così, andiamo a giro con la scatola di fagioli in mano andiamo a vedere tutti questi fiori qui cos'è? non si apre questo lato allora, vediamo di qua vediamo un po' cosa c'è? sembra proprio che oggi sarà una bella giornata ah, ma che è la scatola del meteo ok, quanti fiori blu e bianchi e viola accipicchia aiuto, cosa ho fatto volare? qui c'è qualcosa però beh, facciamo che ci leviamo qualcosa da queste cose dalle mani togli l'attrezzo e andiamo avanti allora, partiamo subito a visitare ah, qui c'è non visitiamo niente perché le case sono tutte qua sotto qua giù c'è la caffetteria vediamo un po' invece qua giù ho visto, ho visto accidenti ecco chi c'è qua mi sa che è lui l'autore di questa cosa di questa città no, stavo guardando sotto è pieno di fiori colorati invece arancio e rossi ciao Atlas spero che questo sogno non finisca mai andiamo a vedere un po' qui cosa c'è la stazione di polizia, credo eh sì accipicchia c'è le monetine nella stazione di polizia che c'è sta strana anche il suono e l'orloio è diverso andiamo un po' a vedere questa tenda di chi è ah, qui proprio campeggio pieno vedo lo zaino la maca casa da pieno campeggiatore effettivamente anche Atlas era vestito un po' diciamo trezandato probabilmente fa il selvaggio oh, un ponte di legno tutto fatto di legno qui c'è un'altra maca poi qui c'è un quel quel giardino come si chiama quando si fa quel giardino lì ora non mi ricordo che ce l'ho me l'avevo anche io come i progetti che mi avevano chiesto i cittadini però un giardino zaino no, zaino l'ho fatto anch'io qui c'è un pozzo cos'è? no, un templo sì una campana ecco infatti la suonata andiamo qua zona case oh, ciao chi sei tu? Gigi Fernwood è la città più bella che ci sia è un sogno che si avvera forza, diverte da esplorarla gnam gnam la cipiccia guardate oh, qui ha fatto un giardino di giochi forte no, voglio anch'io il cestino della spazzatura come mai ancora non c'è nepprociato uh, il faro molto semplice e molto verde questa città Cervasio è in pasticceria quindi non lo troveremo quindi prima casa visitata qui c'è la luce quindi qualcuno in casa c'è di sicuro visto che è sera c'è sera per loro perché per me è mattina quando sto registrando oh, chi è questa bella fanciulla una cerbiattina Diana Diana l'ho avuto anch'io oh, chi sei tu? io mica ti conosco che strano incontrarti per la prima volta in un sogno bene, bene che bella casa molto asciicca che hai Diana e andiamo a vedere adesso le prime due case visitate cioè la prima era chiusa però credo che il Cervasio che ho avuto anch'io sia lui e infatti riesce di conoscerti beh, come Cervasio guarda che sei venuto anche nella mia città spero che ti divertirai un sacco relax e andiamo oh, fiori d'oro e rose d'oro anche lui ho una sola l'ho fatta di rose d'oro non so nemmeno come ho fatto a fare oh, un'altra ma c'è tu Cerviati Cervinia è la prima volta che ci vediamo giusto? vedrai che ti divertirai qui a Fernwood Vulevu e andiamo una casa un po' mista di temi andiamo a vedere poi l'altro abitante qui a sinistra chi ci sarà qua? porta altro stambecco Gigi ora mi ha fatto sbagliare anche a me sei stanca? non c'è nulla di male di farci un pisolino anche se è un solo è solo un solido andiamo bene tavolino a picnic non ci si può stare va bene allora andiamo veramente anche gli abitanti tutti super giù animali di bosco sì di bosco sì sì in montagna ciao a lei luna sono felice di vederti grazie grazie posso visitare questa casa? no va bene allora facciamo così vado prima a visitare questa vediamo chi ci abita un lupo Vanna ehi ci conosciamo sei in visita da un'altra città aspetta che ti ho visto ah ecco credo avverti visto in sogno ad ogni modo sei benvenuta a Fernwood fabula ma ho avuto anche Zanna io ho avuto anch'io Zanna andiamo poi a vedere questo visitato andiamo a vedere questo abitante qui oh ciao Bianca e tu che saresti? sei nuova qui a Fernwood capisco beh benvenuta ok questa l'avevo visitata sì mi sembra di sì 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 momento di buco temporale non mi ricordo se l'avevo visitata no eccola qua Dulcinia oh lei non l'ho mai avuta oh non sei di qui vero stai visitando la nostra città beh cara visitatrice questa è Fernwood la città dei tuoi sogni l'ho lasciarla e l'ho esplorata oh grazie Cerviglia no Cerviglia lei era Dulcinia ehm bene andiamo a vedere se riesco a osservare la casa dell'altra abitante perché la prima era la tenda quella anche che abbiamo visto con la maglia tutta mimetica adesso andiamo a vedere un po' chi c'è no chi c'è chi c'è l'avevamo vista prima vediamo la casa oh qui è fatta pasticceria ecco dove era allora è un letto ma che è un letto fatto a sushi ma cos'è un letto fatto a panino ma che è ok ah qui c'è il supermercato ora andiamo di sopra la stanza è un po' un disordine ah ah ci picchia questa batte anche me ha la faccia la seduta va bene è un po' tutto un disordine ma che si importa e poi andiamo di sotto no niente due stanze basta ah questa fern fernwood luna era luna una città tutta molto verde si ripeto verde con tanti fiori ma scusate ma come ha fatto a far crescere il bambù dentro l'acqua e vedo c'è anche l'albero di natale chissà come avrà fatto non ci domandiamo queste cose poi c'è l'albero di natale nell'acqua pigli la scossa ma che sei matto perioloso altro ponte di legno molto bello comunque il ponte di legno poi un sacco di quadrifogli trifogli ecco il giardino zen il laghetto ma qui c'è una foresta rai di segni sopra il i tronchi il cuore la gink biloba e la foglia di gink biloba questa quella che rappresenta anima casa e poi qui il segno di zelda e poi la mappa aiuto mi sono bloccata in mezzo agli alberi non vedo dove andare qui ecco qui il fiore viola la cipicchiolina vabbè direi che la città l'abbiamo vista aspetta mi manca questa parte di qua sì questa l'abbiamo fatto andiamo a vedere un po' la spiaggia la stazione aiuto mi è venuto il zinghiozzo anche lei o lui ho la pietra aiuto la cipicchia voglio vedere subito questo scrigno che cosa c'è cosa c'è nello scrigno aiuto ho perso lo scrigno niente non lo volevo non lo volevo vedere vediamo questi occhiali che occhiali ah gli occhialini metti a terra vai vado a giro con gli occhialini in mezzo a queste altri fiori altri fiori banane cocchi cani di bambù mozzate sì una città molto sì boschiva aiuto mi sono incartata no eccoci eccoci vai ritorno alla mia casa abbiamo visitato anche Fernwood una città una città molto alberata diciamo molto verde questa mentre l'altra quella dell'altra settimana era molto colorata questa è colorata ma soprattutto in modo principale di verde bene che dirvi ciao ciao sonia ecco mentre parlo con sonia per ritornarmene a casuccia io vi ringrazio per aver visto il video fino a qui mettete i vostri commenti qua sotto che mi fanno piacere e appena posso vi rispondo mettete un mi piace al video se vi è piaciuto se ancora non l'avete fatto iscrivetevi sostenetemi se dai che mi fa piacere vedere anche i vostri commenti e poi ciao a tutti e al prossimo video ciao 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 ciao